A Colletorto i sindaci dei comuni più colpiti dal terremoto aspettavano il presidente Frattura ma la sua presenza nel cuore del cratere è stata solo rinviata ai prossimi giorni. Ad assicurare l'impegno della regione c'era il consigliere Salvatore Ciocca che si è detto pronto a sostenere le richieste degli amministratori e a portarle in consiglio perché ha detto le cose dovranno cambiare per forza. Non a caso a distanza di oltre dieci anni dal sisma i sindaci hanno evidenziato ancora problemi legati ai progetti, alle procedure, alle scade cipe e alla gestione dei villaggi e di altre questioni. Vogliamo tornare protagonisti hanno detto e assumere direttamente le responsabilità che riguardano la ricostruzione. Ciocca la regione sarà disponibile a modificare questa legge? Non solo sarà disponibile diciamo che sarò obbligato a farlo perché le cose che non funzionano vanno cambiate in qualche modo e questa è una cosa che io ritengo personalmente non funzionante quindi avremo un approccio diverso ma sicuramente con una tempistica diversa, con un'accelerazione e con risultati più celeri. Ogni sindaco ha preso la parola per fare il punto nel proprio comune. Dobbiamo essere uniti e definire interventi che vadano bene per tutti senza scivolare sui campanilismi hanno detto. Al vaglio anche una proroga da chiedere sia per le schede cipe che per i progetti non ancora completi. Serve un approccio diverso, ha ribadito il sindaco di Colletorto, Fausto Tosto. Gestire in modo diretto tutto quello che riguarda il leader burocratico e leader di approvazione dei progetti, degli stati avanzamenti, di un rapporto diretto con le imprese, di un rapporto diretto con i presidenti dei vari comparti. Se si ricalcherà e speriamo, questo lo chiederemo come sindaci del cratere, la legge regionale della regione Puglia la faremo anche nostra, almeno per quanto riguarda il finanziamento diretto ai comuni, cioè dargli la dotazione finanziaria per finire la ricostruzione della classe A, sicuramente avremo la possibilità di accelerare in un modo veramente reale quella che sarà e vedremo finalmente la fine della ricostruzione nelle nostre zone. In sala anche tecnici, imprenditori e cittadini. Chi ricostruisce, ha detto uno di loro, deve vivere in questo paese invece di mettere i cartelli vendesi mentre ci sono ancora delle persone che hanno le travi dentro le case.